eccomi in previsione dei mondiali del Qatar che inizieranno tra qualche mese d'ora in poi vedrete anche qualche maglia delle nazionali partiamo con quella del portogallo per la stagione che sta iniziando per le prossime annate non stagione in edizione fan la maglia da trasferta un look fresco ma classico per il portogallo la maglia da calcio da trasferta nike portugal 2022 combina una base biancastra con il blu navi per lo swoosh ufficialmente i colori sono sail obsidian mentre pepper red è il colore tertiario in termini di design la nuova maglia da trasferta della coppa del mondo presenta un design a blocchi di colore verde e rosso sul petto la fascia verde e rossa continua un po sul retro della maglia la maglia presenta un pannello blu scuro nella parte posteriore con un simbolo dorato su misura posizionato appena sotto tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclati al cento per cento cosa ne pensate è sempre la maglia di cristiano ronaldo quindi una maglia che di per sé acquista già un fascino secondo me è molto bella semplice ma con questa fascia bianca molto elegante una maglia che si può essere portata anche tutti e nella mia classifica questa prende 4 stelle la maglia è fatta benissimo ad un costo che sfido a trovare di meglio vi ricordo peraltro che in descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia trovate anche le indicazioni per poter ricevere un coupon e iscrivervi al sito e supportare quindi il canale la maglia è fatta molto bene i tempi di spedizione sono stati eccellenti è arrivata in meno di tre settimane e a questo punto prima di lasciarvi ti prego di regalarci un like e di iscrivervi al canale per poter vedere altre recensioni per oggi è tutto ciao io sono alto un metro e 75 e peso 70 chi di circa quella che vedete è una taglia media della versione fan